e siamo pronti anche oggi nuova ricetta ricetta economica ricetta pensata dal nostro chef Marco grazie oggi facciamo sempre un piatto diciamo invernale un risotto che comunque il risotto se ben fatto è sempre molto gradevole e come dico sempre il risotto va curato nel senso tante volte si fa anche a casa si mette il brodo e si fa fare l'abbiamo fatto un minestrone e si mette il brodo il fumetto e si mette un po alla volta man mano che il riso assorbe dopo averlo tostato noi abbiamo tostato con lo scalogno una piccola nocetta di burro e un filo d'olio e si fa tostare si bagna con il vino bianco come abbiamo fatto vedere anche tante altre volte si bagna con il vino bianco dopodiché quando evapora non sentiamo più l'alcol mettiamo un paio di mestoli di brodo di fumetto in base al risotto che dobbiamo fare un fumetto di pesce meraviglioso e andiamo avanti con la cottura per circa 15-16 minuti e ormai da marco e questo lo fai tu questa cosa la faccio io con molto moltissimo piacere abbiamo le seppioline queste io uso queste piccoline in questo caso le lasciamo proprio intere però non abbiamo detto come facciamo il risotto chef vai il risotto lo facciamo sì facciamo il risotto con seppi e patate seppi e patate grande classico un grande classico un grande classico qui abbiamo messo uno spicchio d'aglio andiamo a mettere le seppioline io in questo caso le lascio intere che sono piccoline se sono grandi poi le andiamo a spaccare quanto sono belle piccoline come si chiamano le seccitelle? si chiamano le scoppi a dita ah le scoppi a dita ok voilà andiamo a far tostare in questa maniera è sufficiente così se sono grandi le tagliamo chef costo meglio di questo piatto iniziasi a pensare perché dai le seppie stanno intorno alle 8 alle 8 barra 10 euro al chilo eh dipende voilà dipende anche il periodo della stagione si infatti mettiamo il vino bianco beh comunque per 4 persone abbiamo bisogno di una seppia grande alla fine non di più si si infatti non è che ce ne vogliono tante quindi diciamo diciamo con sa seppia il riso il riso vabbè una confezione di riso carnaroli al supermercato sta più o meno sui 4 euro 4 e 50 4 euro si anche di meno anche di meno sempre dalle qualità va bene e le patate un paio di patate dai il riso consideriamo metà confezione ma anche di meno quindi 2 euro si volendo esagerare mettiamo la seppia una seppia può pesare mediamente un mezzo filo si quindi consideriamo un 6 euro 6 euro 6 euro siamo ad 8 euro si più le patate io credo che siamo sui 10-12 euro esattamente si si 10-12 euro vedete i piatti alla fine come i piatti precedenti bene o male stiamo tutti quanti su quella su quella linea su quella fascia di pesce si quindi è per 4 persone quindi insomma direi che ecco qua poi se magari invecchiamo anche come abbiamo detto tante volte la stagione il prezzo si abbassa notevolmente va a voglia spesso magari insomma i prodotti vanno anche in offerta come no come no e quindi se ce ne sono tanti in base alla pesca ce ne sono tanti e non buttiamo nulla tutto deve avere una nuova vita spostiamo una stessa padella si spostiamo togliamo lo spicchio dell'aglio che ormai non serve più spostiamo di lato le secchioline anche se sono quasi cotte si mettiamo le patate le patate sono crude oppure sono sbollentate? sono appena appena sbollentate ok appena appena sbollentate perché non dobbiamo allungare troppo la cottura mettiamo le patate mettiamo un pizzico di sale non troppo perché abbiamo già il fumetto che è abbastanza saporito mettiamo un paio di rametti di rosmarino fresco non secco altrimenti andiamo a perdere i petali e poi ci dà fastidio nella certo serve solo per dare il profumo del rosmarino alle seppie e patate già così seppie e patate abbiamo fatto un antipasto volendo un antipasto e un secondo piatto un secondo piatto io già immagino così queste patate messe sul fondo di una coppettina e sopra queste seppioline per fare un finger push è vero verissimo allora togliamo le seppie che poi le andiamo a mettere nella parte finale che ormai hanno rilasciato già il loro sapore e profumo comunque questo fumetto di pesce è eccellente non so cosa ci sia ma ha un profumo mamma mia ha colorato anche il riso è veramente perfetto eccoci qua togliamo anche il rosmarino che ormai ha conferito già tutti i suoi profumi e quanto si sente io credo che il rosmarino sia una benedizione in cucina un po' come tutte le spezie si è vero se è dosato essendo un po' forte di profumi se è dosato nel modo giusto io quando faccio delle semplici patate al forno chef abbondo di aloe e rosmarino e pepe e anche un po' d'origeno ok mettiamo un po' di pressimolo fresco le patate continuiamo quindi con la cottura delle patate chiaramente richiede un po' di tà ma ormai sono cotte anche le patate Jennifer abbiamo tutto tutto pronto io mi faccio un po' di spazio così ok facciamo uno chai jai prego chef mettiamo qua sopra ok perfetto questo lo mettiamo qua lo facciamo albergo un po' questo si sta ritirando il risotto sta lasciando si sta comincia a essere cremoso prendiamo il nostro condimento col sughetto di seppie patate rosmarino e andiamo ad aggiungere al nostro riso che poi secondo me le patate conferiscono una cremosità al risotto si si grazie e a sto punto dobbiamo fare altro che portare proprio a cottura finale ecco questo è un piatto veramente perfetto per queste giornate invernali si fredde ma al punto giusto devo dire che quest'anno ci sono ci sono queste giornate soleggiate veramente bellissime è vero è vero non fa la neve ancora ma mai però si sente freddo lo stesso si il freddo c'è e quindi veramente ritrovarsi intorno ad un piatto del genere è vero è bellissimo è un po' avvolgente caldo e poi preparato sfruttando un grande classico seppie e patate seppie e patate insomma si seppie e patate un piatto semplice della tradizione gastronomica italiana credo giusto? si 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 come seppie e piselle giustamente io dico sempre sono anche repetitivo non possiamo fare seppie e piselle tutto l'anno ma certo facciamo seppie e patate facciamo ma fai cosa mi piace tanto chef devi prepararmi questo piatto una volta seppie e carciofi buono perché no si si è un abbinamento che a me piace moltissimo è un abbinamento buono carciofo poi è un po' difficile da abbinare perché è molto un gusto molto metallico però comunque è molto stimolante è molto eh si è una bella sfida a parte che prepara anche il palato sai il carciofo ti apre il palato ti aumenta la salivazione si si lo faremo dai è una promessa una promessa e allora ci credo perché il nostro chef mantiene sempre le promesse ok ci siamo pronto il nostro risotto pronto il risotto a me piace lasciarlo sempre un po' cremoso cremoso mio figlio dice idratato idratato ecco una parola giusta dice mamma questo riso non mi piace non è abbastanza idratato vedi e io mi arrabbio ricapisci ricapisci lo buono lucite sì ma che riguarda tutte le trasmissioni di cucina possibili ed immaginabili e a volte io dico guarda che quello che vedi non è non corrisponde sempre alla realtà la realtà la cucina vera è questa quella che ne facciamo live in diretta non stacchiamo mai abbiamo il nostro risotto bello cremoso che poi da solo poi andrà a tirare andrà a mamma che bello chef eccoci stupendo stupendo oggi stamattina un signore che ci segue mi ha detto sai quando guardo le puntate si vede proprio che tu non vedi l'ora di assaggiare che dici chef diceva la verità secondo me sì secondo me sì e poi per i tuoi piatti veramente ho una pari di lezione perché riesce a far sembrare semplice qualsiasi cosa e poi di fatto lo è sì infatti ecco qua un capolavoro un piatto semplice rustico della tradizione leggero caldo perfetto per l'inverno ma secondo me perfetto per ogni occasione quindi mi raccomando rifateli questi piatti poi abbiamo anche la pagina facebook quindi pubblicateli fateceli vedere scriveteci fateci sapere come è andata grazie grazie a voi e alla prossima puntata vi aspetto sempre su rete 8 tutti i giorni chef in cucina grazie a tutti